Musica Dottore Gattuso, che cosa è La Salute Vien Mangiando? La Salute Vien Mangiando è il titolo che do a questo convegno per far capire che buona parte del mantenimento del nostro stato di salute e di non malattia dipende da noi stessi, dal nostro stile di vita. Il stile di vita in greco si dice edaita ed è comprende non solo la dieta ma comprende l'attività fisica, il modo di comportarsi e soprattutto il modo di alimentarsi. Qual è il primo innesco di una malattia? Considerando che le malattie cronico-degenerative hanno un momento in cui iniziano, in genere questo inizio viene individuato con l'inizio dell'aumento del girovita, con cominciare a mettere sulla pancia. Questo aumento del girovita fa parte di una serie di sintomi che configurano una sindrome, la cosiddetta sindrome metabolica, che si caratterizza per l'aumento, come abbiamo detto prima, dell'incremento del girovita che è superiore a 100 nei maschi e a 85 nelle donne, per l'ipertensione, l'aumento del riglicerido e del colesterolo e si caratterizza anche per un aumento della glicemia superiore a 100. Come prevenire la sindrome metabolica? Prevenire la sindrome metabolica significa cercare di restare magri, cercare di non incrementare il girovita, perché il girovita significa accumulo di adipocite. Gli adipocite ormai, si sa, non sono più cellule di immagazzinamento di sostanze, ma addirittura sono delle ghiandole endocrine considerate che se c'erano sostanze e che creano un'infiammazione cronica sistemica che a lungo andare altera il DNA delle cellule determinando la degenerazione delle patologie cronico-degenerative, considerando anche i tumori che sono essi stessi delle patologie cronico-degenerative. Come si attua la prevenzione? La prevenzione bisogna attuarla, come ho detto in precedenza, con uno stile di vita sano e soprattutto curando l'alimentazione. L'alimentazione, quella che si è dimostrata più efficace nella prevenzione delle patologie cronico-degenerative è la nostra dieta mediterranea, che è basata sull'utilizzo di cibi non raffinati, quindi cibi integrale, sull'utilizzo di legume, le lenticchie, i ceci, i piselli, i fagioli, sull'utilizzo della frutta, della verdura, di proteine animali, quindi ogni tanto il pesce, pochissima carne rossa e ci si può concedere ogni tanto mezzo bicchiere di vino, la condizione sia vino rosso buono. Dottore Cattuso, quanto incide l'attività sportiva? L'attività sportiva, non sportiva, l'attività fisica, soprattutto l'attività fisica aerobica, che si attua con la semplice camminata, magari camminando in maniera a passo spedito come se si fosse in ritardo per un appuntamento, incide tantissimo. Si è visto che chi fa un'attività fisica regolare, almeno mezz'ora al giorno, per 5 giorni a settimana, ha un'incidenza di patologie cronico-degenerative del 50% inferiore a chi è sedentario. E nell'ambito di chi fa attività fisica, la sopravvivenza è del 50% in più in chi è senza pancia rispetto a chi fa attività fisica e ha la pancia. Il cuore mi scricchia, a picca, 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 aiaiaiai, maru, 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 maru. In conclusione, la salute da chi dipende? La salute dipende per il 15% dai nostri geni. Se si hanno dei genitori longevi si parte già con una buona scienza di avere una vita lunga. Per il resto dipende dal nostro stile di vita, considerando quindi la giusta alimentazione, il non uso di droghe, il non abuso di alcooligi e soprattutto evitare il tabaggismo. Questi fattori messi assieme alla sedentarietà influiscono per il 75% nell'insorgenza delle malattie cronico-degenerative e dei tumori. Contrariamente a quello che si pensa, l'inquinamento incide in maniera massiccia, ma nei nostri paesi incide pochissimo, incide invece la cattiva alimentazione, il tabaggismo e la sedentarietà. Vola, vola, palumeggia, piglia, pisce, pisci, petta. Vola, vola, palumeggia, piglia, pisci, pisci, petta. E li vecchino banaro di lo vecchio si minzaro. E li vecchino banaro di lo vecchio si minzaro. Fuori porta luparrino, casirino, pezzano.